Ave Maria, pieni grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti frutto il tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, ti prega per noi, peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Ave Maria, pieni grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti frutto il tuo seno, Gesù. Ave Maria, pieni grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti frutto il tuo seno, Gesù. Ave Maria, pieni grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetti frutto il tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Santa Trinità unico a Dio, Santa Maria, santa madre di Dio, santa vergine delle vergini, madre di Cristo, madre della chiesa, madre della divina grazia. Vergine clemente, vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra letizia, tempio dello Spirito Santo. Auguriamo a Sua Eccellenza di poter godere stasera di questo posto, ecco che 50 anni fa ride anche un po' un miracolo fatto dai santi medici in cui si è edificata questa cappella. E in questi 50 anni la tradizione non è mai stata spezzata. Ogni anno, verso questo periodo, fino agosto, inizio settembre, c'è sempre questo raduno di popolo e di devoti che si presenta qui, che è una zona, si può dire, deserta, bofiva, siamo in mezzo a un bosco. Il chi viene qui è veramente con la fede e la devozione ai santi medici Cosme e Damiano. Grazie Eccellenza per la sua presenza in mezzo a noi. Grazie. E prepariamo per la santa messa. E' profonda che abbiamo tentato di professare in questi anni, in questa contrada. Non ci sono orchestrine che attirano il popolo. C'è soltanto un altare intorno al quale ci siamo riuniti con la presenza sua. Per cui le diciamo grazie. E diciamo grazie a tutti coloro che sono intervenuti. Perché con la vostra presenza avete dato una testimonianza che la nostra Chiesa ancora è viva.